Musica 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 E benvenuti ragazzi sono Gilberaga Sono qui oggi a portarvi a Grandissima richiesta Ed è per questo che vi chiedo 60 likes tra parentesi Vi porterò Di ritorno Un gameplay magari con lo sniper Proverò a fare qualcosa Anche se lo sniper non lo uso da Due anni quindi e non lo Non nemmeno ho fatto qualche prova Veramente la mia prima partita con lo sniper Dopo veramente tantissimo tempo Proverò a fare qualcosa di Decente fare qualche kill Probabilmente vi lascerò molti spezzoni Di partita perché una partita Normale non riesco a farlo comunque fatemi Sapere se volete magari qualche Highlights magari con l'SVG Con l'RSA con Altri sniper tra l'altro se avete L'XPR fatemelo sapere Qua sotto nei commenti che magari Prova a fare qualche gameplay Con il vostro account Quindi noi ragazzuoli Cerco la lobby e ci becchiamo Ok ragazzuoli La partita me l'ha trovata Però purtroppo son finito Contro dei Tryharder Assurdi Mi sembra ci sia un livello 800 Una roba del genere Comunque ci proveremo Ragazzuoli Io ve lo dico Con il mouse di tastiera Non ho mai giocato con lo sniper Quindi non son capace Proverò a fare qualche kill Non aspettatevi niente Perché veramente Con il mouse di tastiera Non riesco a giocare Con lo sniper Proverò magari a impegnarmi Leggermente di più Per fare un highlights In cui vi porto Magari qualche clip Vi dico solo Che però a fine partita Vi lascio una clip Che avevo fatto su Only sniper Due clip che avevo fatto Su only sniper Con il cecchino Però lì ero su only sniper Quindi c'è la gente ritardata Qua contro gente che usa le armi Farò veramente Schifo Comunque Quanto eran sickle Le mimetiche Tra l'altro vedete Con 41.000 kill di locus Comunque vabbè Quanto eran sickle Le mimetiche di Di bio 3 Anche tu Bello Bello de mamma Eh purtroppo Non riesco Essere preciso Con lo sniper Con mo' di tastiera Ma dove volete andare Bello Fica si Livelli 800 Mamma mia Io gioco con lo sniper Aspetta devo beccarmi Un livello 800 Contra Vai a casa Uhuhu Bibi Spostati un po' Bibi A casa Baby Dai Bibi Spostati un po' Ragazzoli Direi che come prima partita Non è andata benissimo Comunque Vi ascerò qualche Piccola kill con lo sniper Giusto per ritornare Magari a giocare un pelettino Faccio Due o tre partite E Si chiama di tirare fuori Qualcosa di decente Ragazzoli Ok ragazzoli Ho trovato la seconda partita Siamo su Infection Che Non Not bad Per lo sniper Pertanto Con tutte le armi forti Che ci sono su Su bio 3 È quasi impossibile Giocare con lo sniper Oh So Suck my dick man Se vedete Non riesco Non riesco A mantenere Una mira decente Purtroppo Alla Se andate a cercare I vecchi video Avevo un Era abbastanza Schillato Con lo sniper Non tantissimo Però Un po' di clip Le facevo Mori Bibi Ma muori Cucci Oh Questa mi Questa mi gustava Ragazzoli Bibi Come te l'ho schivata Come te l'ho schivata Bibi Ma questo Qua stava combinando Regà Cosa cazzo Stava combinando Quello Aiuto Regà È impossibile Giocare con lo sniper Sto bloc Stare con mouse E tastiera Veramente qua Così Devastante Fa male al cuore Alla mente Dappertutto Regà Fa veramente male Dappertutto Comunque vi porto ancora una partita Regazzoli Ve la concedo Ve la concedo Poi tornare a giocare con le armi E a fare un po' di devasti Perché Se no così Mi incazzo Solo e non mi diverto più Allora ragazzi Sto prendendo Proviamo a farla con questo sniper qua Cioè senza Mirino termico Proviamo un po' Anche se in realtà Mi trovo molto peggio Però Una partita Ci sta Uh Pecca di staghi Il Bibi Ma What the fuck Cosa è capitato Regà Vi giuro Che con mouse e tastiera Proprio Non mi trovo Non riesco A trovare la sensibilità giusta Quelle robe lì Non riesco a giocare Vabbè Questo qua Era scarsissimo Però Uh Bibbi ma E lì che saltellavi Tutto bello felice Poi What the fuck Man Poco distrutti Questi Aiuto Regà Ma quelli Poverino Tu mori Bibbi Mi sto trovando Molto meglio Con questo Questo Mirino qua Anche se in realtà Sto facendo cagare Per i miei standard Perché comunque io Ero bravino Con lo sniper Non dico Famas Però Bravino Se le clip le facevo Oh Sto quick scope Mi è piaciuto Mi è piaciuto Regà Sto quick scope Oddio ma quanti Quanti erano Aiuto Aiuto Regà Ci stava Ila Easy clip E la madonna Oh Sto quick Mi è piaciuto Mi è piaciuto Regà Era bello fresco Speriamo tra l'altro Che su Black Ops 4 Sia Leggermente più facile Utilizzare lo sniper Rispetto a Black Ops 3 Tu muori Così Magari Sì però Non puoi farmi Hitmark Già c'è lo sniper Ed è molto più difficile Chirare la gente Sicuro mi fai Hitmark Allora E beh regà Not bad Purtroppo con lo sniper Come vedete Non so Se volete Facciamo così Se volete Magari Faccio uno sniping Un video sullo sniping Con il joystick Perché con il joystick Basta che mi metto lì Gioco Tra 4 partite Mi riabituo E Faccio sicuramente Un video molto più Qualitativamente Alto Con lo sniper Con il joystick E quindi Nulla regà Facciamo così Se abbiamo 60 likes Ve lo faccio Il prossimo Lo faccio Con il joystick E nulla regà Ci vediamo Al prossimo PTO Oh Ripartite Per arrivare Tipo Ma What Ma What Si What Ma Guarda Guardalo raga Il inferno Spragliare Sì No Ha preso Non so Come Sono proprio Di gran Ma Vai Secondo È triple O O Tbro 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 Grazie a tutti